Luca Filicetti lascia il Vittoria. Il fantasista, giunto in estate, considerato uno dei punti di cardine della squadra che affronta il campionato di eccellenza, ha deciso di lasciare i colori biancorossi. Il divorzio consensuale è stato siglato ieri pomeriggio quando a Vittoria è arrivato il vicepresidente Francesco Di Paola. L'addio a Filicetti, che quasi certamente approderà a Modica, è arrivato qualche minuto prima del summit societario, che però ancora una volta si è concluso senza una decisione definitiva. Unica certezza il divorzio, ormai sicuro, tra il gruppo Di Paola Mascara, la cordata catanese, ed il gruppo vittoriese guidato da Barravecchia e Romano. Di Paola ed il gruppo Mascara, con il padre del bomber, Marcello, che ha partecipato, egli pure, alla riunione, vogliono rimanere ai vertici della società. Ma sono disposti a versare solo una parte dei soldi che Barravecchia chiede perché egli pure ha investito nella società. Tale rimborso, così come chiesto da Barravecchia, potrà avvenire solo se il Comune garantirà il contributo già promesso per l'anno di 90.000 euro. Soldi che potrebbero servire a saldare le spettanze del gruppo vittoriese, mentre la cordata catanese è pronta a sobbarcarsi da sola il peso della stagione, investendo soldi e risorse per costruire un organico competitivo. Alcuni giocatori avrebbero già fatto delle avanze e vorrebbero venire a giocare a vittoria. La squadra potrebbe essere rafforzata e concludere il campionato ad alto livello. Tutto questo, però, per ora è solo un'ipotesi. Se non dovesse concretizzarsi di Paolo e Mascara, lascerebbero il vittoria. La cordata di Barravecchia e Romano non ha le risorse per continuare da sola e la squadra verrebbe riconsegnata al Comune.